Epic Game Store è in vena di regali. Corretti a riscattare gratuitamente Marvel's Guardians of the Galaxy su PC, ma prima iscrivetevi al canale. Col vostro supporto continueremo ad aggiornarvi su queste occasioni da non perdere. È appena arrivato un nuovo gioco gratuito su Epic Game Store ed è tra quelli da non sottovalutare. Marvel's Guardians of the Galaxy di Eidos Montreal ha stile da vendere e resterà sulla piattaforma a 0 euro fino alle ore 17 di giovedì 11 gennaio 2024. Per far vostra questa avventura non dovrete far altro che recarvi sull'apposita pagina tramite il link in descrizione e cliccare sull'icona rossa ottieni. E adesso spendiamo qualche parola su questo titolo dedicato alle scorribande di Starlord, Gamora, Rocket, Groot e Drax. I fan della Casa delle Idee si troveranno al timone di una squadra piena di guerrieri formidabili ma non esattamente affiatati, al centro di una catena di eventi in grado di intrigare e sorprendere. L'esperienza è sorretta da una sceneggiatura spiritosa e indovinata, pensata per farci conoscere a fondo ogni singolo membro dei Guardiani. Il gioco presenta un unico finale, eppure pone più volte dinanzi a bivi narrativi non da poco. Il team di sviluppo non ha optato per l'open world e chiama i giocatori a esplorare mappe di respiro meno ampio, eppure piene di deviazioni opzionali e collezionabili. Restando in tema di esplorazione, le caratteristiche peculiari dei vari Guardiani giocano un ruolo importante. Drax può sfruttare la propria forza per spostare i massi, mentre Rocket può intrufolarsi nei cunicoli grazie alle sue dimensioni ridotte. Semplice puzzle ambientali con ricompense interessanti affiancano, neanche a dirlo, i combattimenti. In questo ambito il titolo offre un assetto ludico da shooter in terza persona, d'altronde ci permette di impersonare soltanto Star-Lord. Il protagonista può eliminare i nemici a colpi di blaster, ma anche sfruttando gli altri suoi assi nella manica. Può congelare o folgorare gli avversari grazie a dei colpi elementali, ma anche lanciare loro delle granate. Gli addetti ai lavori però non volevano privarci della possibilità di coinvolgere gli altri Guardiani nell'azione. Da qui la chance di impartire loro degli ordini di attacco, in modo da realizzare delle combinazioni efficaci. Per sopravvivere ai boss o nelle situazioni più difficili, sapere come sfruttare il gruppo è di vitale importanza. Marvel's Guardians of the Galaxy vanta una direzione artistica indovinata, con tanti scenari differenti pieni dell'atmosfera tipica dei paesaggi visitati dal gruppo di eroi nei fumetti. In sostanza, il titolo di Eidos Montreal è certamente una bella sorpresa da parte di Epic Game Store. A questo punto vi lasciamo la parola, siete fan dei Guardiani della Galassia e andrete a riscattare il titolo gratuito? Ditecelo nei commenti!